bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati sconfall guys signori allora intanto chiedo scusa a tutti quanti per essere mancato così tanto dal canale per non aver pubblicato video ma è stato un periodo un po così in cui ho voluto staccare un attimo la spina per fare un poco di mente locale ma chiedo scusa a tutti mi dispiace per l'assenza mi dispiace perché ci è rimasto male chiedo ripeto scusa a tutti ma tra l'altro stamattina ho avuto una bella conversazione con la mia community che mi ha fatto tornare voglia di tornare sul canale sia con i video che con le live sull'altro sito quello viola quindi rimanete aggiornati seguitemi su instagram tramite le stories che ora si torna più forti di prima belli carichi con video come se non ci fosse un domani e anche con le live sull'altro sito signori miei oggi siamo tornati sul fall guys signori voglio fare un gioco così veloce per ritornare con i vecchi tempi belli così a sclerare subito è il nostro unicorno stellato con una gonnellina inguardabile signori inguardabile questo questo questa tic tac oggi è inguardabile però sento che ci porterà bene sento che ci porterà bene signori quindi vediamo di partire in partire in partita che vuol dire partire in partita non lo so non è neanche italiano forse però va bene vediamo di fare qualcosa di buono signori il ritorno bisogna bisogna portare una vittoria signori bisogna che sia un ritorno con i controcavoli signori qual è questo livello si so perfetto proprio un livello proprio di merda proprio fatemelo dire signori un livello proprio di merda non potevamo capitarci livello migliore va bene però ci possiamo riuscire stiamo calmi stiamo calmi ci possiamo riuscire ci possiamo riuscire dobbiamo semplicemente pensare che ci riusciamo dobbiamo pensare positivo signori come diceva giovanotti penso positivo perché son vivo perché son vivo noi dobbiamo pensare positivo che ce la possiamo fare che ce la possiamo partiamo in ultima fila questa cosa già è brutta come si camminava con ok così io non ricordo assolutamente una cippa di nulla signori non ricordo assolutamente una cippa di nulla per questo ho deciso di tornare con un giochino molto semplice e no sperando di non far brutte figure ora se io mi lancio la cado perché io questo gioco infame lo conosco signori questo gioco infame lo conosco dai così dai 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 ok 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 non mi lamento non mi lamento non siamo ancora morti signori quindi dico mi sento fortunato che non siamo ancora morti dai così dai unicorno dai sta andando bene signori sta andando bene sta andando bene non ci lamentiamo dai 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 salta lì bravo il mio unicorno il mio unicorno di qua no di qua siamo messi male di là siamo messi pure male a posto siamo rimasti qui signori siamo rimasti qui ho fatto la cagata forse di passare dall'altro lato non ho guadagnato niente sono semplicemente passato da uno sfondo all'altro però va bene dai 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 non sta andando malissimo signori sento che ho fatto la cagata ecco la sapevo io più uno lo se uno se la sente quando fa la cagata la sente non puoi scappare alla alla cretinata dai dai no no unicorno e porca di quella unicorno mio già in cinque sono arrivati signori già in cinque sono al bar che si stanno prendendo il caffè anche se non si può più fare perché siamo ormai quasi tutti chiusi bloccati a casa però in cinque già sono arrivati che si stanno prendendo il caffè sono belli tranquilli in sei sono ecco come diceva la canzone di gino pali eravamo quattro amici al bar ora sono diventati otto otto e noi siamo ancora qui noi siamo ancora qui certo è la nostra fatina unicorno dove andiamo andiamo da qua andiamo da qua dai così dai così dai così dai così no 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 mamma mia mi stavo per lanciare a momenti cadevo cadevo male dai 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 che possiamo prenderci un bel vantaggio dai che possiamo prenderci un bel vantaggio no 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 un bel vantaggio sulla cippa di questa gran cippa e i brutti scemi dovete venire da questa parte se no il coso non si alza ok dai e così dai così dai così dai così dai così dai così no sono stato eliminato no raga ma ci sono rimasto di merda dai ma era quasi arrivato c'è l'unicorno il porco spinoli che cazzo non è quella cosa di il tricerato per riuscita a passare io no ma dai va bene dai la prima ci sta la prima come ritorno così proprio per fare una bella figura di merda la prima ci sta dai non ci interessa andiamo avanti andiamo avanti ritorniamo subito in no devo cambiare il colore della tic tac questo rosso ferrari è inguardabile questo questo unicorno rosso è inguardabile signori se sentite rumori strani è la mia sedia non vi preoccupate non non vi preoccupate di rumori strani che state per sentire ma però va tutto bene signori mentre qui sta caricando io ne approfitto per darvi la comunicazione allora siamo decisi a tornare quindi due video al giorno ne trovate uno questo che sta che è uscito alle 13 e il secondo video sempre su queste piattaforma lo troverete alle 7 signori con la serie delle sette torna torna e vediamo cosa poter fare come come poterlo organizzare dove che alle 5 alle 5 si anzi forse anche alle 4 devo decidere comunque troverete sempre tutte le info sulle stories di instagram mi trovate in live sull'altra piattaforma torniamo col botte signori si torna decisi si torna decisi uniti e più forti di prima dai così allora questo cos'è door dash va bene door dash va bene door dash va bene ce la possiamo fare ce la possiamo fa questo questo lo so fare questo è quello delle porte del suo mercato ce la possiamo fare ce la possiamo fare signori l'arcobaleno di questa gran cippa va bene dai così dai così dai dai fammi partire fammi partire che sto carico fammi partire che sto carico sarebbe bellissimo sbloccare la la skin quella della banana con la faccia al contrario ne ho visto uno c'è pure sonic no dopo parto è una poche no c'è un triceratum dopo no a fianco mamma mia quanto mi stantipato che ti c'era dopo tiriamo dritto per dritto signori facciata decisa sulla porta mamma mia che facciato sbattuto il corno preciso quando si dice proprio partire con col piede giusto dai così c'ho la banana che mi insegue c'ho la banana che mi insegue e puntiamo a quella aia facciata facciata questa è pure una facciata questa è aperta dai così dai così signori dai così che stiamo andando bene dai così che stiamo andando bene puntiamo a questa no puntiamo a quella due porte vicine è difficile che ci siano che si aprono dai così e porca miseria alzati unicorno dai così aia aia mamma mia no ma che sta cacciata signori fatemi passare forza che devo quantomeno andare in fine non posso tornare sul canale youtube con una sconfitta di merda e dai 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 volo dell'angelo volo dell'angelo in te sono arrivati secondo noi ne ho più di 40 davanti a me penso proprio di sì signori erano più di 40 quelli davanti a me bell proprio siamo tornati col botto signor proprio quando si dice tornare per vincere in un videogioco siamo tornati proprio di un botto di merda va bene signori detto questo io vi ringrazio per guardare questo video vi ricordo quindi che ci vedremo no dai famone un'altra dai 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 no non posso lasciar così non posso lasciar così non posso lasciar così no invece lascia proprio così signori vi lascio con la collina in bocca con l'acquolina in bocca detto questo signori miei io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti seguitemi su instagram mi trovate come maullo 941 e link in descrizione del canale di instagram così mi potete seguire le stories in cui vi aggiorno su quando usciranno i video oppure no e soprattutto le live sull'altro canale detto questo grazie ancora spero vi faccia piacere che siamo tornati qui sul canale e ci vediamo sempre qui per un prossimo video bella raga ciao